Viene così, guarda l'ora poi. Vieni bene. Dopo, 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 dopo. Ma ragazzi, tanto sono vestita, eh. Non è che ho chissà che, eh. Vai, prego ragazzi. Francesco, fammi l'ingresso di Giulia, stai là. Ho fatto un spazio qua dentro, poi mi devo girare. Io, io. Vado io, eh. Oh, che vero. Oh, che vero. Salvatore dov'è? Salvatore deve stare là. Giulia, ascolta prima loro due, cortesemente. Prima Francesco. Francesco, provate di conoscere. Gig, tutti i nomi. Per me, allora. Tu mi incontri. Mi stai finitando qua. Tu mi fai fare male. Questa gente. Mi devi chiamare Salvatore. Salvatore devi finire qua. Chiama la ragazza. Anche qua, grazie. Qui ti fa bene qua. Non ti fai fare il mare. Tu stai dentro. No, ma chi se. Tu sei dentro? Chi noi? Ti fai dentro da dentro. Prego. Chi noi. Chi noi con le trasi. Tu vuoi. Ciao.